Siamo con Mia Gandini, con alcuni esponenti di Talexit, Mia Gandini che è coordinatore regionale del partito di Paragone, siamo di fronte al provveditorato degli studi della provincia di Modena. Talexit è venuta qui, ha appena incontrato il provveditore, il quale è stata fatta una richiesta precisa, lo vediamo anche dai cartelli, togliere le mascherine a scuola per gli studenti che, ricordiamo, oggi già sopra i sei anni hanno l'obbligo di indossarle. La richiesta nei dettagli e poi la risposta, se c'è stata, del provveditore. Allora, la richiesta è, come in tutta Italia, sono iniziative che stiamo facendo davanti a tutti i provveditorati, è del togliere queste mascherine ai bambini, soprattutto davanti alla garanzia che quando stanno seduti il distanziamento è assicurato, ci sono sentenze che lo dicono e soprattutto perché con la stagione estiva sappiamo benissimo quanto è difficile mantenere queste mascherine per tanto tempo a scuola e quindi ci sembra una tortura inutile e anche alla luce del fatto che, come ci hanno confermato, non ci sono dati in nostro possesso né in possesso dei cittadini che giustifichino questa tortura, che per noi è una tortura, lo è per gli adulti, figuratevi per i bambini. Più problemi che stanno emergendo a livello proprio di apprendimento, perché la mascherina diminuisce l'ossigeno a disposizione dei neuroni del cervello e i bambini si distraggono di più e memorizzano di meno, quindi anche l'apprendimento è compromesso, oltre a una questione di espressioni fra di loro, cioè non vedere il viso degli insegnanti o dei propri compagni, non ha socialmente la stessa rilevanza che vederli senza mascherina, quindi è una tortura veramente inutile per noi senza nessuna giustificazione scientifica. Da parte del provveditore c'è stata una risposta, qualche riscontro in un senso o nell'altro? Allora, premesso che non era il provveditore che ci riceveva, ma un suo rappresentante, è stato molto gentile, ci ha ricevuto, ha preso il volantino che consegniamo anche a voi, ha risposto molto succintamente a qualche domanda, però ripetendo che non era nella sua disponibilità a fornire risposte, io ho chiesto se erano in possesso dei dati sulla base dei quali era stato imposto l'obbligo, ma ho detto che non sono dati sensibili. Ricordiamo che oggi, almeno fino alla fine della scuola, l'obbligo resta, a questo punto uno spera che già da settembre... La nostra speranza è che questa battaglia possa servire per la ripresa e per evitare questa tortura, almeno a settembre, alla luce dei dati che speriamo ci forniscano, perché appunto dicono che sono dati sensibili, ma in realtà per noi non possono essere sensibili, i cittadini hanno diritto di sapere le misure perché sono state imposte con questa determinazione in un contesto dove sembra che l'emergenza almeno sia rientrata. Vorremmo pensare, ci dicono che è rientrata. Lo diciamo ancora, l'Italia ad oggi è l'unico paese dell'Unione Europea che ha questo obbligo. Esatto, grazie, sì, è una cosa assolutamente fondamentale, perché gli altri paesi l'hanno tolto e noi no. Con mia Gandina e con altri disponenti a punti di Talexit, qui davanti al Proveditorato, agli studi di Modena.